tornare a dare la voce a 22 è stata una festa mi sono molto affezionata a questo personaggio quindi credo che non lo lascerò mai siete state elette come membri di un'esclusiva organizzazione segreta il cui scopo è impedire alle anime di finire in quel brutto posto chiamato terra 22 prima dell'arrivo di joe non trova una motivazione per andare sulla terra anzi lavora contro le animi che vogliono andare sulla terra che trovano la cosiddetta scintilla dopo l'incontro con joe naturalmente come vediamo poi in soul lei trova una forte motivazione trova sostanzialmente il senso della vita la gioia di vivere la cosa che ho amato di più di solo è quello quello che ti lascia un senso profondo di gioia nella vita di gioia di vivere direi che dell'antemondo il posto che mi piace di più è il salone del tutto perché lì scegli vedi c'è tutto e tutto quanto anche i padiglioni della personalità sono molto interessanti 22 è un'anima molto ribelle mi piace per questo mi è simpatica per questo non so se sono simile a 22 è un po ribelle lo sono sempre stata ma insomma 22 è roba forte siete insulse e pagine vuote se fossi un'anima pronta ad andare sulla terra non so quale luogo sceglierei probabilmente quello che conosco meglio quello da cui provengo ricomincierei dallo stesso posto e la nostra inarrestabile banda avrà un nome epico sì e come i commenti che mi hanno emozionato di più sono arrivati da mia figlia solo un film che fa breccia nel cuore degli adulti perché ha un senso profondo e molto toccante vedere tutto questo entusiasmo in una bambina di otto anni ma mi ha fatto veramente un grandissimo piacere senza uno scopo senza uno scopo almeno fino ad oggi mentre suona gio scivola in quella che viene chiamata la bolla sicuramente c'è un momento in cui un artista si isola e si sente protetto è una questione di concentrazione di vivere quel momento lì che è finzione ma è anche realtà è una protezione è un luogo sicuro una bolla congratulazioni voi cinque avrete il privilegio di restare giù è il mentore di 22 la aiuta a trovare la sua scintilla forse tutti i genitori come capita a noi con nostra figlia laura tutti vorrebbero essere dei mentori perfetti per i propri figli aiutarli guidarli a trovare la propria scintilla secondo me non c'è molto da fare nel senso che come capita anche in in questa storia bellissima che è soul la scintilla bisogna trovarla da soli